cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezioso nome del signore siamo ancora sotto l'effetto della meditazione della parola delle ultime domeniche continuiamo con apocalisse capitolo 5 versetto 11 e vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono alle creature viventi e agli anziani e il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia di migliaia all'inizio furono i 24 anziani e le quattro creature viventi a cantare il nuovo cantico ma qui ci sono già tutte le schiere celesti riunite intorno al trono e le quattro creature viventi e i 24 anziani loro hanno gridato a gran voce degno e l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria e la lode si tratta del compimento dell'opera di redenzione l'incoronazione dell'agnello come re dei re che assumerà il suo potere ed eserciterà il dominio nel capitolo 4 versetto 11 leggiamo quasi le stesse parole di colui che siede sul trono tu sei degno o signore e dio nostro di ricevere la gloria l'onore e la potenza perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono questo dovrebbe convincere tutti della correttezza dell'unità di dio altrimenti si dovrebbe dare gloria separatamente al padre poi al figlio e poi allo spirito santo in questo contesto non troviamo più i termini padre figlio e spirito santo ma il termine signore nostro dio come scritto nella parola profetica l'agnello di dio si mostra nel compimento dell'opera di redenzione tutto il cielo grida a gran voce degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria e la lode in questo capitolo ci viene detto che i 24 anziani suonavano le arpe di dio e cantavano il nuovo cantico ma in apocalisse capitolo 15 leggiamo dei vincitori sul mare di vetro loro hanno ottenuto la vittoria sulla bestia e la sua immagine e il numero del suo nome e stanno con le arpe di dio sul mare di vetro e cantavano il cantico di mosè servo di dio e il cantico dell'agnello dicendo grandi e meravigliose sono le tue opere o signore dio onnipotente giuste e veritiere sono le tue vie o re delle nazioni chi non temerà o signore e chi non glorificherà il tuo nome poiché tu solo sei santo e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te perché i tuoi giudizi sono stati manifestati o che assemblea festosa sarà quando tutti i redenti tutti i tempi e tutte le schiere celesti si uniranno in questo canto comune e suoneranno le arpe davanti al trono di dio e canteranno davanti al signore degli eserciti anche noi gridiamo con tutto il cuore amen ci prostriamo davanti al signore per adorarlo e aspettiamo quel giorno glorioso paolo guidato dallo spirito esprime già il desiderio dei figli di dio e anche il desiderio di tutta la creazione per il giorno della liberazione e gli scrive in romani capitolo 8 dal versetto 18 infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata al nostro riguardo poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di dio sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione la redenzione del nostro corpo dalla caduta nel giardino dell'eden tutta la creazione è stata soggetta alla schiavitù e alla corruzione ma dio ha promesso che tutta la creazione parteciperà alla redenzione noi come figli di dio siamo redenti e abbiamo ricevuto lo spirito santo come primizia eppure gemiamo in questo corpo e aspettiamo che anche il corpo perituro sia trasformato in un corpo di risurrezione con il momento del compimento dell'intero piano di redenzione di dio avviene una svolta per tutta la creazione nell'apocalisse questa svolta è posta davanti a noi ed è espressa nelle parole tutta la creazione in cielo e in terra si è unita nella lode di dio le quattro creature viventi gridarono amen i ventiquattro anziani si prostrarono e adorarono le schiere celesti e tutti i redenti si unirono in questo cantico comune secondo apocalisse capitolo 14 la lode penetrerà dal cielo sulla terra il versetto 2 afferma e udì una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono e la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe e cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi e dagli anziani e nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra ogni volta che leggiamo della schiera redenta nell'apocalisse in qualsiasi contesto sia mostrata e raffigurata è la schiera dei vincitori che parteciperà alla cena delle nozze come sposa dell'agnello e poi scenderà con lui per celebrare il regno millenario non solo le schiere celesti e i redenti ma tutto l'universo si unirà così leggiamo in apocalisse capitolo 5 versetto 13 e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi le udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli e le quattro creature viventi dicevano amèn e gli anziani si prostrarono e adorarono cari fratelli e sorelle nel Signore come ci si sente quando si contempla una così preziosa parola di Dio che ci parla di ciò che è vicino tutti i profeti e gli apostoli tutti i figli di Dio stanno aspettando quel giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo il giorno in cui i nostri corpi mortali saranno vieticati e trasformati il giorno in cui vedremo Gesù Cristo il nostro amato Salvatore faccia a faccia tutta l'ingiustizia tutta la sofferenza tutto il dolore e la morte non ci saranno più Dio stesso asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi ci siederemo per celebrare la cena delle nozze dell'agnello sta scritto le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano cari ascoltatori abbiamo compreso il piano di salvezza di Dio con i suoi abbiamo compreso che lo Spirito Santo secondo la parola di Dio è all'opera nella sua chiesa fino a quando essa starà perfetta davanti al suo trono poiché ora viviamo negli ultimi giorni l'agnello ha aperto il libro i sugelli sono stati aperti e il contenuto è stato rivelato voglio gridare a tutto il mondo che il Signore stesso ha detto al suo servitore William Branham il 28 febbraio 1963 ritorna in Oriente perché è giunto il tempo di aprire i Sette Suggelli nel marzo 1963 il fratello Branham ha parlato dei Sette Suggelli come gli sono stati mostrati e aperti tramite rivelazione se Dio vuole parleremo brevemente di ognuno dei Sette Suggelli nei sermoni a venire il libro sui Sette Suggelli è già disponibile in lingua tedesca considero un grande privilegio poter trasmettere i misteri di Dio ai figli di Dio in questo tempo preghiamo Signore mio Dio ti chiedo di parlare al tuo popolo in tutto il mondo perché il tempo è serio e breve che sappiano che tu hai parlato al tuo popolo lo chiedo nel nome di Gesù Amen di Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.